Buona domenica, che l'amor, la pazza e la fede dal Signore rientri in te vostre chiasi, tra vostri cur e caresti. Il Vangeli alle Ciel di Lucca. In che volta il Signore ha lasciato giù altri 72 discepoli, io ho mandato due per due davanti a sé in ogni città di Lucca, la che stai per là. Ora diceva, il racconto è abbondante, ma i lavori hanno deposto. Preate allora il parone del chiam per calmare i lavori per il suo racconto. Voi, beh, io lo mando come a me fra i miei dei luoghi. Non stai a portare né i porti, né i sacchi, né i sandvi. Per la strada non stai a salutare nessuno. E quando io entrerai nella chiasi, dicevo, prendi tutto, pazza a queste chiasi. E se lì non è qualcuno che gli tenga la pazza, alchiapparà la pazza che gli augurare. Se no, i vostri auguri non valeranno noi. Guariti malassi, coi chiatai e diceiti ur, il ream di Dio alle donne. I 72 discepoli e sono tornati da ur plenus di contentecce, dicendo, signor, perfino i demoni non subidissi, in quanto io clamendo il tuo nome. E lui ur dis, ovvio devi, Satana è a plomba aiuto al cielo come un volc. Io us ho dato il potere di tabbiare sarpini e scarpioni e di fruciare ogni potenza dal nemico. Noi non potrà farlo male. Non stai però a Dioldi perché i demoni si stanno sotto, ma invece te perché i vostri snus sono scritti dai ciii. Allora, in Chiappe 72, ah, questa è la vostra volta, Benedetto, perché se sono 12 metti che siedono i predi, i suoi vescovi, ma qui i 72 sono i discepoli. I discepoli che andano là a preparare, disin la sovignode, i discepoli che andano là al mondo, i discepoli che andano là da che i 99 fiori che sono fuori di stile. Ecco, ho sei sbattato, attenzione, anche perché che altri, i dodici, che sono i predi, si riducono sempre più. Vedete? Ho sei sbattato anche voi altri e di conseguenza anche voi altri o sei esclamati a questi apostoli di lui. Beh, no. Allora, al di là, due per due. Prima di tutto, io ho visto tal due per due i genitori. I genitori. Loro, ma avevano due per due, perché che qualche due di loro dicevano una roba, la stessa roba, che roba era sicurata vera. Voi altri genitori, ci ridessi da stessa pelle, rispietta i figli, sorriduti, sorriduti lì. Ecco, e queste due per due alla di sé, anche il segnal, di essi, a testimonia, lui, ecco, come iglesie, insieme. Plan planchino, vedi sentissi insieme, davanti al mondo, non dove la religione come un fatto personale, la fede dimostrata come un fatto personale. Ecco, essi, per esempio, infamè, ecco, che si va in davanti, a vedere di portarlo lui, e vuoi, poi di maio, se is incaricare su altri, a facer, chi ha detto, raccolta le bondante, e mi piace tanto, che il signor, che le ottimista, c'è il suo raccoglio. Secondo me, c'è tal mondo, c'è tanto che il bene che mai, perché se va in davanti la storia, c'è un dato di fatto, che va in davanti per chi fa il bene. E vuoi, se vedi di là, lì c'è il bene, lì c'è l'amore, rende cosciente lì, che lì c'è Dio, che loro, ecco, in qualche forma, magari senza sapere, lo mostrino, è peccato, quando è così pochino, che mostra il bene al mondo, c'è tanto che mostra il male, sapete? Ma il bene, non dicevi, ha le qualche parte in davanti la storia, e c'è tanto. E a son pochi, operari, salditi di prea, prea lui, perché l'int, non sei di pessimista, non vedi d'ome il male, non sei di d'ome male, ecco, perché l'int si specializza, ecco, per scoprire, che il bene che hai a disposizione, di partire, davanti a voi, e di vivere, ecco, ogni dì, perché, vi odi il bene, pensai il bene, al parte, a stare bene, e a fare il bene, a tu capito, a coventi in Christia, puestio, e vuoi come vuoi, perché andè, già avondi, e anche amassi, che i che vedono il male, a pensare il male, a stare male, e a fare il male, e a servire tutto il male, che è in questo mondo. Allora, è come una nuova evangelizzazione, di portare al mondo, di vedi, propiti anche per stare bene, di vedi, cecale il bene. Usmandi, come agnei, fra miei dei lussi, perché se vuoi, a me tocchia anche a me, tanti svolti, scoccire, in ogni occasione, di vedi, cecale il bene, ce che si può apprezzare, ce che si può giurdi, a me dicono, tu, tutti contenti di poco, tu, ecco, a usi pure, di dichiarare, il, il, l'attacce, miei geplene, ecco, tutti contenti di poco, avvocato, sei ingenuo, ma tu, sa tu, sa tu, che l'importante, ecco, tutto ciò che viene riferito, dei miei informazioni, difendiamoci, dei miei informazioni, ecco, tutto vuoi vivere fuori dal mondo, sì, ma il mondo non è fatto, come è di male, ecco, non tu vengi, nessuno ti fa i complimenti, se tu reclami il bene, postai, che è anche per cercare il bene, è scontato, ma, vengono, e vi odinu, e gli odinu, il bene, che venga a disposizione, no mo, bene, al vendevanti, non stai a portare, nisporti, nisacchi, nisandui, e pa strada, non stai a salutar nisun, in pratica, al diis, ci rit, vuoi altri, di evitare, queste robe, che creano divisioni, fra le ente, che le, alle appunt, le robe, per cui si baruffe, ma il possiede, anche il titolo di studi, che ti mettono sotto, un po' di ore, al possiede, propite anche, tante battole, che tu hai tu, e che altri, no, invece, non stai, vai con semplicità, e so redduto, che io vorrei sfermarmi, dopo un momento, provate a pensare, provate a fare, in c'è percentual, che non, ovulino, ve, robe, che non sono necessarie, robe, che non coventino, eppure, non, o li ritornino, importanti, per nesta vita, provate, ogni un di voi, a fare una lista, delle robe, che arrivaressa, a vivi, e che, considerandoli, necessarie, anticipati, prima, per veli, e poi, per veli, anche, mu di plui, che, allait, così, in un mondo, che, alvarà di domanda, scusa, e storie, dell'umanità, per tutto, che ha, coniuto, sfruttare, per ve, robe, che non sono necessarie, a vivi, che, all'inseratore, e non stai, a salutar, nessuno, all'ordidome, non stai, a perdere, sinchiaccare, non stai, a perdere, di tempo, vai in davanti, vai in davanti, che il mondo, ha bisogno di voci, e, sorredduto, di essi, da di voci, a vivi, l'essenziale. Allora, come ho, ho preghi, dal nome, dal pari, dal figlio, e dal spirito, santo, Amen. Signor, in che smonte, gli è ma sei, che vi ho perduto, d'ome mal, e assieme, a caliessi, d'omechel, che ha fatto, la nostra storia, propite, perché, tu non smandis, d'occhi, no, cristians, e tu non smandis, di prealparon, che, mandi anche, mo, tanchi, di loro, a viodi, e a faviodi, c'è tanto ben, che lui, l'ha assamenato, e che l'ha adressato, in questo, nostro mondo. Per arrivare, a viodi, di Cicco, viodini, tu non raccomandis, di non che ha passato, tanti robi, ma di cerire, il rapporto, con le persone, e tu non smandis, insieme, per correre, a vivi, a mostrare, relazioni, bielli, fra di noi, stanno, che sono, le bielli, relazioni, e non, le robi, che danno la vita, e la contentezza, dal vivi. Amen. Allora, al diis, di guarire i malati, e di diur, che ream, delci, alle donne, e fa l'augurio, passati a queste chiese, c'è tanti bisogni, che vengono di passare, prendi tutto passare, con noi stessi, così, in tutto un ebulidore, in tutto un battibuio, dentro, un po' di passare, ho vengono di passare, ho vengono di passare, ho vengono di fermare, ho vengono di volerci bene, ma noi, hanno stessi, proprio te, dopo ho vengono di portare la pass, fuori di no, e passare a me, c'è tante che ho vengono, e dopo passare, che si montano, non vedete, per mio conto, ho sin governare, dicendo, che non è a plomp, no, non è a plomp, perché, ho vengono, ho vengono, ho vengono, ho vengono, cosa è succeduta, no? Andrà tutto bene, quando è venuto il Covid, dopo il Covid, è venuto la guerra, dopo la guerra, come ho, è venuto il sud, e tante interessi, la fanno, è un mondo, che ha più bisogno, di mai, di pass, di pass, che è, che si può fare, dò, ma con l'inche, che ha il bene, non con l'inche, che ha il male, e che lo sglonfe, e che lo reclamisce, il male, e che lo ritorno, in due contens, perfino i demoni, non si ubbidissero, in quanto, clammino, il tono, ecco, il sonone, al fareva il miracolo, il presentarsi, tra il sonone, antien, non stiamo a avere paura, di nominare il Signore, tra i nostri discorsi, al può servire, tanto, a quei, che non sentono, ecco, il fatto, al può servire, di mettere il Signore, dentro, tra i discorsi, la che ho continui, fatti, in pratica, della nostra vita, ecco, metti dentro, il Signore, senza pure, e lui al dice, non stai taglioli, perché i demoni, sono stanno sotto, ma perché, questi non, si sono scritti, anche se non avete i risultati, non li importa, e se avete i risultati, vuoltre, se avete dei soldi, perché il vostro nome, ha scritto, in cui vedete, o no, i risultati, l'importante, alle vivi ben, e per vivi ben, bisogna, realmente, chialà il ben, pensà il ben, sta ben, e fa il ben. Buine domenie mandi. Grazie.